Qual è il piano? Quel trasportatore deve essere fermato. Impedite ai ribelli di ottenere il suo carico. Questa volta non ci sfuggiranno. Confermato. Trasportatore in movimento. Sensore di prossimità attivo. Il trasportatore di belle è stato immobilizzato. Siamo pronti. Andiamo! Andiamo! Carica di prossimità attiva! Carica di prossimità attiva! Piazzata è attiva! Allarme! Trasportatore di belle è di nuovo in movimento. Energia del trasportatore di belle è ripristinata. Sì! 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 No, no, no. No, no, no. Via di qui! Pronta a esplodere!